Ho fortemente voluto l'inserimento dei porti di Gela e di Licata nella circoscrizione di competenza dell'autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale. Finalmente la firma del protocollo d'intesa con la regione siciliana, la visione di insieme dei porti della Sicilia occidentale, farà certamente da leva per lo sviluppo commerciale e turistico anche dei porti di Gela e Licata. Lo dichiara il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile Giancarlo Cancelleri. Sono certo, dice Cancelleri, che il presidente dell'autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale Pasqualino Monti farà un ottimo lavoro e io sarò in prima linea sempre per rilanciare il sistema portuale siciliano e fare della Sicilia il centro del Mediterraneo non solo dal punto di vista geografico, sottolinea Convinto Cancelleri che poi aggiunge avremo uno snellimento delle procedure per le attività di manutenzione e realizzazione dei nuovi progetti e questo assicurerà alla nostra isola celerità e meno burocrazia nella realizzazione delle attività portuali necessarie allo sviluppo del territorio.